Musica Benvenuti ad una nuova puntata di Viaggio in Molise. Oggi vi portiamo a Termoli nella splendida cornice del Martur Resort. Per la terza giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio. Ci sarà un convegno dove interverranno molti esperti sotto diversi aspetti di questo mondo. Con agronomi, il capo panel dell'Union Camere Molise, enologhi e produttori, medici che evidenzieranno anche l'importanza di questi prodotti nella dieta quotidiana per prevenire diverse patologie. E giornalisti enogastronomici. Una giornata, una mattinata ricca di eventi. Al termine del convegno ci sarà anche una degustazione di diversi vini tipici molisani e la degustazione degli oli tipici di questa terra. Ed in più anche la possibilità di assaggiare delle preparazioni con questi condimenti. Grazie a un buffet che viene offerto a tutti i presenti. Andiamo a conoscere le caratteristiche e le specialità degli oli e dei vini tipici molisani. Venite con noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Alessandro Bocchetti, giornalista enogastronomico, curatore della guida del Gambero Rosso per le regioni Abruzzo e Molise. Lei oggi è qui presente per un evento importante, la giornata dedicata al vino e all'olio di questa regione. Ecco, partiamo proprio dai presupposti. Quali sono le caratteristiche culturali dal punto di vista enogastronomico della regione Molise? La regione Molise è una regione che ha una tradizione vitivinicola e in generale gastronomica abbastanza importante. Una ricchezza di patrimonio, di prodotti, di saperi, di sapori abbastanza storica e intimamente legata con l'Abruzzo e con tutto il linguaggio adriatico ma molto importante. I vini molisani che noi assaggiamo per la guida tutti gli anni sono dei vini interessanti che raccontano una bella mediazione fra tradizione e innovazione, fra tecnologia e cultura contadina, rurale. Qui siamo proprio nel regno, nella culla dei vini molisani perché gran parte della produzione è proprio qui nella zona di Collemerino, di inseguirsi di colline che dall'interno molisano arriva a lambire il mare. Vini che fanno molto spesso di un ottimo rapporto qualità-prezzo è il loro requisito più importante. E' in questa congiuntura particolarmente apprezzato dal mercato perché la crisi che stiamo vivendo in questi periodi non sempre ci sta portando una contrazione dei consumi verso prodotti del buon rapporto qualità-prezzo. Si sta sempre più attenti sia alla qualità ma anche all'economicità della questione. Per cui diciamo che il Molise ha una serie di requisiti che se sarà in grado di crogliere nei prossimi anni potranno dare una buona possibilità ai suoi vini. A proposito del futuro, la crisi potrebbe essere piuttosto un incentivo per le produzioni molisane? Appunto, da quello che dicevo prima, la crisi tende a privilegiare quei luoghi dove ci sono più prodotti rimasti integri e soprattutto forse un po' meno fortuna storica che quindi ha preservato il plusvalore economico, insomma un rapporto qualità-prezzo più importante, più vantaggioso. Questo sicuramente accade nel Molise. Quello che è importante del Molise è che deve un po' crederci, l'impressione mia, un po' di più ai suoi vini cercando di riscoprire le vostre radici rurali, contadini alla luce della modernità puntando molto su vitigni autoctoni, sulla tradizione, su un prodotto riconoscibile perché oggi il mercato quello che preme, quello che cerca è la riconoscibilità del prodotto. La promozione del territorio anche attraverso appunto la riscoperta del territorio e la sua iniziazione sul mercato. All'atto pratico, quale dovrebbe essere l'indirizzo che si sente di dare a tutti i produttori di vini molisani? Secondo me non riguarda solo i vini ma è tutto il comparto enogastronomico. Dicevamo prima appunto che se pensate già adesso il comparto enogastronomico nel suo complesso è la terza voce del bilancio statale. Se si interseca con il turismo di cui è il volano più straordinario perché chi viene in Italia oltre a vedere il Colosse vuole mangiare italiano e bere italiano, c'è poco da fare, diventa il primo. Questo per farvi subito comprendere come ci sarebbe molta necessità di un aiuto reale e fattivo da parte delle istituzioni perché il comparto enogastronomico è una delle poche possibilità che questo paese ha per un suo rilancio economico. Questo che vuol dire declinato sul locale, per esempio sul Molise? Vuol dire che anche le istituzioni, come un po' come avviene anche in Abruzzo da noi, dovrebbero crederci molto e investirci molto con un'opera di comunicazione perché il Molise come l'Abruzzo e più dell'Abruzzo ha un problema di visibilità nel mondo. Già in Italia lo conoscono poco, fuori dall'Italia spiegargli dove è Sernio e Campobasso penso che sia un'impresa molto complicata. Per fare questo è un lavoro che i produttori da soli non potranno mai fare, che nemmeno compete a loro, ma compete a qualcuno che li accompagni in questa strada cercando di comunicare a un territorio straordinario con enormi possibilità anche turistiche che sono sotto gli occhi di tutti. Mario Stasi, agronomo, il suo intervento nella terza giornata nazionale della cultura del vino e dell'orio verte appunto sulla questione di sostenibilità nel Molise e in particolare di questi due elementi, la vite e l'olivo. Partiamo appunto dall'olivo. Quali sono le caratteristiche delle colture di questa pianta che sono coltivabili qui nella regione? Beh, le caratteristiche le dimostrano il territorio stesso, due colture importantissime per la regione Molise che hanno un indotto non indifferente. Però l'ecosostenibilità a cui facciamo riferimento nel Molise è che possiamo ottenere un'agricoltura di qualità, diciamo un'agricoltura di intelligenza fatta però di esperienze sul territorio. Queste cose vanno messe a frutto perché non è solo il risultato finale ma noi dobbiamo pensare non solo al vino e all'olio ma ciò che viene da dove si produce, cioè il territorio. In poche parole dobbiamo parlare di vite e di olivo, di adattamento a questo tipo di clima, di varietà autoconone, di biodiversità, elementi che si contraddistinguono nel variegato programma nazionale. Per cui io direi che la vite e l'olivo da un punto di vista culturale ci hanno accompagnato come popolo molisano da secoli e bisogna riscoprire il piacere di coltivare la vite con l'olivo, con tecniche moderne ma che calano la propria attività nel biologico, nell'integrato. La regione Molise attraverso il PSR ha dato la possibilità sia di realizzare agricoltura integrata sia agricoltura biologica. Le adesioni non sono state così numerose però penso che sia la strada giusta da seguire. Per quanto riguarda queste due coltivazioni sono molto particolari, necessitano di alcuni requisiti appunto morfologici del terreno. Quante sono le colture di viti e di olivo possibili qui in Molise, in un territorio che non è facilissimo? È un territorio difficilissimo, lo dice lo stesso la parola. Già codificare Tintilia e non dire Tintilia del Molise significa tanto perché abbiamo raggiunto un risultato che ci appartiene perché la Tintilia è solo molisano. Però io partirei dalla base, da una pianificazione diversa dove strutturalmente sul territorio bisogna calare una zonizzazione, zona a vocazionalità e questo siccome ci sono le condizioni, il mio intervento su questo vertirà, ci sono le condizioni sia scientifiche, sia strutturali, sia di elementi di biodiversità. Per la vita cito solo la Tintilia ma non è la sola, ce ne sono tante altre. Cioè voglio dire, la Tintilia non la possiamo allargare e restringere a fisarmonica. Ci sono delle condizioni ambientali, caratteristiche del vitigno, tutta una serie di cose che vanno messe insieme e vanno potenziate, valorizzate e poi alla fine della filiera, visto che ci troviamo a un convegno organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier, la parte finale, visto che si parla tanto di standardizzazione, ma la gente è stanca di questa standardizzazione, vorrebbe cogliere dal bicchiere di vino, dalla bottiglia d'olio, vorrebbe cogliere quelle caratteristiche che esprimono la territorialità, cioè legata fortemente all'ambiente, questo sia per la vite e sia per l'olivo, perché possono viaggiare insieme anche se occupano paesaggi diversi, paesaggi agrari diversi. Non bisogna essere selettivi nel senso di questo comune no, questo comune sì, perché se andiamo ad analizzare il 60% della produzione vitivinicola ricade nei territori di Montenero, di Bisaccia e Campomarino, però l'altra parte regionale si è evocata a tante altre forme di allevamento di viticoltura diversa, per cui è un lavoro che va fatto in sinergia con gli organi competenti, sia scientifici sia regionali. Secondo lei, incrementando l'ecosostenibilità, che è appunto il concetto base sul quale si basa appunto il suo intervento, è possibile incentivare la particolarità del territorio che produce quel tipo di coltura e riconoscerla nel momento in cui si beve un bicchiere di vino o si assaggia un olio? Decisamente sì, c'è il riconoscimento perché c'è una storia da raccontare che fa parte della nostra tradizione, del nostro territorio. Decisamente sì perché è un'opportunità inderogabile, inderogabile perché credo dalla mia esperienza lavorativa, dalla mia esperienza di tutti i giorni, credo che sia la risposta da dare anche per il lavoro dei giovani, perché i giovani imprenditori possono investire, ma con delle sicurezze, con delle peculiarità, perché investire in un mercato globalizzato bisogna stare attenti perché abbiamo dei concorrenti spietati, noi dobbiamo valorizzare ciò che ci appartiene. Grazie a tutti!